Monta e belluna si viene cantando all'amore, gente di cuore che vive qui. Ciao Toni, tu sai che ci vogliamo un gran bene, una nostra amicizia dura da 40 anni circa e sono orgoglioso di essere tuo amico. Ma lei Little Toni, quando vi siete conosciuti? Inizia anni 80, lui è venuto ben otto volte in diversi anni a fare concerti a Monta e belluna e poi ha dedicato una bellissima canzone. E nel 1995 gli abbiamo dato le chiavi d'oro, primo cittadino onorario di Monta e belluna. Che cosa vuol dire Little Toni che la sta guardando dallo studio? Carissimo Toni, ti voglio ringraziare per l'amicizia che hai sempre portato il nostro gruppo e ti ringrazio soprattutto per la bellissima canzone che hai dedicato alla nostra città dove racconti le origini, i luoghi e la laboriosità dei suoi cittadini. Che cosa vuol dire a Little Toni? Che siamo onorati di averlo come cittadino onorario qui di Monta e belluna. E una frasetta di una canzone che ricordi, Cuore Matto ad esempio, come fa? Eh, cuore matto che ti vuole bene e giorno e notte pensa solo a te. E non riesco a fargli mai capire. Tanti anni fa che è venuto aveva una macchina americana molto lunga ed è salito sul palco con la macchina. Signora, che rappresenta per l'Elite il Toni? Il ricordo della mia gioventù, dei primi amori. E' sempre stata una persona mai sopra le righe. A me piace. Ti aspettiamo qui a Monta e Belluna e continua a cantare così, che sei sempre simpatico e tutte le donne ti amano. Ciao Toni, sei una persona squisita. Sei venuto a casa mia, le tue visite sono sempre molto gradite. Toni, noi ti amiamo tutti a Monta e Belluna. Ti saluto così, era uno sguardo d'amore, la spada nel cuore ci resterà, sei bello. Ciao Toni, ciao. Più bella. Ciao Rita, ti aspettiamo. Era uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore, mi sento morire, morire per te.